Buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana, eccoci qua puntualmente 7.30 in diretta per sfogliare i giornali, i giornali che troverete in edicola, il resto del Carlino, Corriere Adriatico, naturalmente come tutti i lunedì, visto che c'è un ampio spazio dedicato allo sport, affogliazione ridotta per quello che riguarda le pagine locali, però andiamoli a vedere naturalmente nei loro titoli principali, non prima però di aver visto l'almanacco del giorno e poi le previsioni del tempo. Oggi è lunedì 6 marzo, la chiesa osserva Santa Rosa da Viterbo, il sole sorge stato e sorto alle 6.37 e tramonterà alle 18.02. Guardiamo le previsioni per la giornata di oggi e quella di domani, il proseguimento della settimana, il cielo per oggi è parzialmente nuvoloso con aumento della nuvolosità in serata, le precipitazioni ci saranno nel pomeriggio deboli, dapprima nelle zone interne occasionali altrove, poi maggiormente diffuse nel tardo pomeriggio anche lungo la costa, il limite delle nevicate si attesta intorno ai 1200 metri, quindi vedete anche dalla simbologia sulla cartina, la pioggia è presente un po' in tutta la regione, le temperature sono in lieve aumento, però i venti moderati e sud occidentali, il mare sarà mosso, nessuno fenomeno particolare segnalato. Vediamo per domani, come si presenta la giornata, vedete cielo ancora più carico, nuvole molto ben delineate sul grigio, nuvoloso o molto nuvoloso, questa è la didascalia che riguarda il cielo, precipitazioni rovesce temporali diffusi localmente, anche però di forte intensità e il limite delle nevicate scende attorno agli 800 metri e anche le temperature sono in diminuzione, i venti moderati settentrionali, però il mare sarà molto mosso o agitato, ma senza nessun fenomeno particolare, quindi insomma la tendenza è al peggioramento. Vediamo la tendenza per i giorni successivi, quindi per il resto della settimana, quale sarà? Ci sarà questo consolidamento di un'area anticiclonica con conseguente peggioramento del tempo e ancora instabilità per il resto della settimana. Questo è l'inizio della settimana e il prosieguo poi per i giorni successivi, quindi insomma un inizio di settimana all'insegna non del bellissimo tempo. Allora andiamo a vedere i giornali, vi porto in apertura sulla pagina del Corriere, quella di apertura dell'inserto, fotonotizia centrale per il risultato del Fano che sbanca la piazza di Ancona, rifila un bel 2-0 secco all'Ancona, poi l'ordinanza anti-accattonaggio di Ricci che insomma non porta grossi risultati, perlomeno in termini economici. Vedremo poi perché la VL che crolla nel finale a Venezia chiudendo a meno 24, quindi sonora batosta sul campo del basket per la VL. Andiamo a vedere le pagine interne del Corriere Adriatico. Si parla di Porto per quanto riguarda Pesolo e a volte ritornano, Sindaco concede il bis e dopo l'assemblea al Comitato l'incontro con i residenti. sulla questione Porto e poi ancora quello che è stato riportato nel lancio della prima pagina, il provvedimento anti-accattonaggio a Cattoni, in due mesi 40 multe ma alla fine non paga quasi nessuno. Finora sono state riscosse solo 6 contravenzioni, in un anno sono stati sanzionati 85 persone e vedete qui chiude con 85 multe l'ordinanza anti-accattonaggio ma ne sono state pagate solo 6. Oggi in Consiglio Comunale si vota per la trasformazione in regolamento. Che cosa cambierà? Saranno coinvolti anche altri luoghi, diventerà fissa oggi con l'ordinanza, si amplierà sia alle scuole e alle strutture sanitarie. Tutto questo avverrà nel Consiglio Comunale di oggi alle 17 a Pesolo. Poi andiamo a Fano, nella pagina del Corriere Adriatico. Mura, Mura Auguste, Mura Romane, sempre presi di mira dagli imbrattatori che non hanno altro da fare che andare a scrivere cose sui muri e anche sgradevoli alle volte, non solo messaggi e dichiarazioni di amore eterno. Il Pincio, terra di nessuno, deturpato dai rifiuti, da luogo storico a dormitorio per Clochard e quindi insomma vedete all'azione i tecnici che tentano di ripulirlo ma dopo poco c'è subito qualche d'un altro che prende il posto dello scrivano precedente. Cenerelli, regresso Arti, dice noi ci siamo offerti di ripulire l'area, aspettiamo il via libera dal comune. Strage di specchietti nei pressi del Sangallo, diverse auto parcheggiate sono finite nella notte nel mirino di alcuni vandali, sono state trovate bottiglie e vasi spaccati. Ecco qui vedete la foto di questo specchietto e la fine che ha fatto per la mano di questi vandali. Anche sul Pincio noi vi abbiamo sempre mostrato diversi servizi nel corso del tempo, prima sono state trovate anche tracce di smercio di droga, siringhe, c'è di tutto là sopra, nella terrazza in questo monumento così bello di Fano non si riesce a monitorizzare, non si riesce a renderlo vivibile e decoroso, speriamo che presto vengano presi i provvedimenti. Fano, il comune di mezzo ai fondi 2016 a tutte le società dilettantistiche, taglia i corrispettivi di gestione, rabbia tra i dirigenti, polligioni di Fratelli d'Italia dice impianti a rischio, chiusi i rubinetti per i finanziamenti alle società sportive dilettantistiche, si sono viste quasi dimezzare i corrispettivi nella gestione 2016. l'unica società professionista ha invece ricevuto tutto, vogliamo spiegazioni, queste le dichiarazioni e le richieste di alcuni dirigenti di società non dilettantistiche. Si schianta sui cartelli stradali, paura per una donna, sbattuta nella segnaletica sulla adriatica, poi è stata soccorsa dal 118 a Metauriglia. Questa era un lancio di cronaca, vediamo nelle pagine della Val Cesano che cosa ci riportano i cronisti del Corriere Adriatico, all'asta lo yacht di Lucio Dalla, nato a Marotta. Giordano Rosari, titolare del Cantiere Azzurro, ricorda con nostalgia il legame con il cantante che amava moltissimo il mare e dice lui non ci credo. Il Brilla e Billi, questo è il nome dello yacht, lo vedete qui in questa foto, proprio al porto di Fano, nel 2003 fu varato, era la sua seconda casa, aveva addirittura all'interno uno studio di registrazione, ma Lucio Dalla non andava solo a motore, andava anche a vela, era un amante del mare a tutto tondo. Fu prodotto in legno, artigianalmente, è lungo 22 metri e ha un valore di oltre 559 mila euro. Ancora dalle pagine del Corriere Adriatico vi porto a Urbino con una bellissima foto dei Torricini, qui si parla di turismo e di quello che si può fare per il turista perduto che va ripescato, idea, la rete dell'antico Ducato. L'obiettivo è il Monte Feltro e la sua globalità, allargato anche a Romagna e Toscana. Ripeschiamo i fasti medievali con il Gran Ducato della zona che era sicuramente una bella zona e in quel periodo sicuramente c'erano spunti migliori. Si punta a realizzare una serie di percorsi tematici, itineranti su arte, storia, cibo e paesaggio. Tre, quattro argomentazioni che sicuramente non mancano nel Monte Feltro in ogni sua declinazione. Ancora dalle pagine di Senigallia, sempre chiudiamo il Corriere Adriatico. Neonata muore tre ore dopo il parto, i genitori dicono vogliamo sapere il perché. Quindi un dramma nell'ospedale di Senigallia, riportato qui nelle pagine del Corriere Adriatico. La bambina era nata ieri mattina, sarà disposta l'autopsia nel reparto di ginecologia e ostetricia. Si sono sentite urla disperate della mamma e del papà. Una giornata di shock anche per sicuramente gli operatori, oltre che per i genitori lungomare, argomento decisamente diverso. Jogging con lo spray urticante, armate di bombolette, dopo le molestie subite da una ragazza. Ecco, si fa jogging con il timore di essere aggredite in quella zona e quindi ci si munisce di questi spray al peperoncino per scoraggiare gli aggressori eventuali. Andiamo nelle pagine del resto del Carlino. Vi porto alla stazione di Pesaro con questo articolo di Roberto Damiani che parla di un episodio di cronaca, chiusi in ascensore, i passeggeri urlano, qui i guasti sono troppo frequenti, pugni sulle pareti per evidenziare la loro presenza, liberati grazie all'intervento di un assistente. Vedete qui l'entrata nell'ascensore. È una media preoccupante, su sette giorni, va in tilt quasi la metà i disabili, li carichiamo a spalla. Queste sono le considerazioni fatte su questo episodio. Poi Sanità Bollente chiama il 118 per una colica, arriva ma il paziente va in ospedale da solo perché perdevano tempo invece di caricarmi e quindi lui si arma di grande pazienza, prende e ci va da solo. Trasporti delegati, il servizio sanitario di notte a Montecchio è garantito da una società privata. E qui come sempre tutto l'iter della vicenda riportato nella pagina del resto del Carlino. Come sempre ampio inserto di sport, io vi faccio vedere le due pagine che riguardano il Fano che appunto sapete è andato ad Ancona e ha sbancato la squadra d'Orica. Due gol, Ancona 0, Fano 2, suicidio ad Ancona, per l'Ancona, l'ira dei tifosi e insomma il Fano intanto esulta naturalmente per la vittoria e quindi si comincia a pensare alla salvezza. Il mister Cuttoni dice ora si continui su questa strada e naturalmente l'obiettivo è la salvezza. Questa era l'ultima pagina che vi facevo vedere per oggi, naturalmente questa sera il telegiornale. Occhio alla notizia alle 20.30 puntualmente per tutte le notizie che riguardano la giornata di oggi e anche qualcuna che è accaduta nel fine settimana. Bene, buon proseguimento di giornata a tutti voi. Arrivederci. Grazie a tutti.